Una zona dal punto di vista sismo genetico abbastanza nota, quella in cui si è verificata ieri la scossa di magnitudo 4.1 con epicentro a Colle Longo, al confine tra due strutture molto importanti dell'Apenino centrale, quella del Fucino che nel 1915 rilasciò una scossa di 7.0 e quella della Val di Comino che nell'84 tremò con una scossa di magnitudo 5.9. Sono diverse le sorgenti sismiche che insistono nella zona, ma la fascia di sismicità basata sugli eventi sismici del passato era stata identificata intorno a una profondità di 13 chilometri. La scossa di ieri ha avuto invece una sorgente ancora più profonda, 17 chilometri, una novità per gli esperti. Il problema dell'attribuzione della sorgente precisa al singolo evento però è un problema serio e reale nel senso che noi come modellando delle sorgenti sismiche non abbiamo la certezza che un terremoto possa essere attribuito ad una faglia o ad un'altra faglia anche perché le faglie sono dei modelli matematici, geometrici che vengono desunti dall'analisi dei dati. Per questo tra parentesi è importante avere più dati possibili per avere strutture da modellare in maniera sempre più precisa e puntuale. Questo terremoto è stato localizzato all'INGV a 17 chilometri di profondità. Ciò va un po' oltre la fascia di 13 chilometri che era stata definita per quella zona, quindi non si può escludere, sempre per il discorso che facevo prima, che questo terremoto sia attribuibile alle strutture del Fucino e non alle strutture della Valcomino perché la letteratura finora, sempre desunda dall'analisi dei dati, afferma che quelle strutture siano un po' più superficiali. Non è da escludere a priori una replica o uno sciame sismico come la storia sismica dell'Appennino centrale ci racconta, ma questo non vuol dire fare previsioni sismiche, per cui l'aspetto più importante resta, come sottolinea il sismologo aquilano Christian Del Pinto, la prevenzione. Una scossa di 4.1 non dovrebbe spaventarci. Noi dobbiamo avere la certezza di abitare su un territorio sismico, ma non per questo dobbiamo vivere nella continua tensione e dobbiamo essere sicuri che in caso di evento anche più serio siamo in grado di uscire da casa nostra con le nostre gambe. Questo si fa esclusivamente attuando politiche di prevenzione, quindi avendo un dialogo con gli esperti, gli esperti veri, non quelli che hanno preso la laurea su Facebook o su Instagram e una sensibilità nell'amministrazione del territorio in cui le politiche di prevenzione vengono attuate in maniera seria.